Un approccio integrato che coinvolga in primis le autorità locali, i residenti e le comunità interessate. Bisogna fare subito e fare bene questa. Non è accoglienza, non è più accettabile. L'accoglienza è un atto di apertura. Tutto ciò che viene accolto viene fatto entrare in una casa, in un gruppo, in se stessi. Così in un post sui social Rita Montrone, poliziotta in quiescenza da poche settimane, memoria storica della questura di Foggia e presidente dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato, la sezione di Foggia, intervenuta sulla questione relativa a degrado del quartiere ferrovia di Foggia. Più volte è segnalato non solo dall'Associazione Amici del Viale, ma da tutti i residenti della zona e di cui le forze dell'ordine sono investite ormai da anni. Accogliere, continua il post, non è solo ospitare, mettersi in gioco rendendo partecipe l'altro di qualcosa di proprio e il riconoscimento dell'altro, garantendo posti di lavoro e dignità, ma pretendere alla stessa maniera il rispetto delle regole, il pagamento dei tributi, il rispetto delle tradizioni, perché ogni cultura, ogni gruppo di persone ha le proprie usanze, i propri valori e i propri principi.